Io per esempio ti dico, ti dico a te e te lo dico anche su un senso, chi manovrava il campionato? Ma tu stai tranquillo che a me non mi correva nessuno. Chi lo manovrava? Non avendo avuto illeciti riscontrati, non avendo avuto illeciti riscontrati, è stato detto che c'era un sistema, il sistema Amorgi, il famoso sistema Amorgi, no? Ecco bene, il sistema Amorgi consisteva in condizionare il campionato. Come si poteva condizionare il campionato? Il presidente della Lega contro, il presidente della Federazione contro, il presidente del Coni contro, i designatori contro. E poi c'è un'altra cosa, l'Epore, il capo del Tribunale di Napoli, no? Che a un certo punto dice, a un certo punto dice, processo doveva essere fatto al calcio nella sua interezza a 360 gradi. Ma lo dice quando praticamente il processo era quasi finito di Calciopoli. E da allora il processo al calcio non è mai stato fatto, ancora oggi dico. No, ma che vuoi, il calcio è questo qui. E lei a un certo punto viene coinvolto anche in un filone di queste indagini sulle plusvalenze della Juve, no? Questa è veramente carina. A parte il fatto che, no io, la Juventus, la Juventus, sapete cosa aveva di plusvalenze? 5 milioni di vecchie lire. E sapete perché? Era stata sollecitata da qualcuno, e qui non vi saprei dire da chi, ma dai capi del calcio ad aiutare la Fiorentina, che era in fallimento, e fu comprato Moretti, quello che gioca nel Sena, per 5 milioni. O miliardi, adesso non ricordo. Di fronte a tutte le squadre che avevano 200-300 milioni, e voi sapete chi sono, Inter, Mila, Genova, Roma in modo particolare, Lazio, ne parliamo, no? Ecco, le procure di quei posti lì praticamente hanno azzerato dopo due mesi la cosa, hanno proprio archiviata, no? La nostra è durata due anni, con 5 milioni, fino a quando praticamente non è stata fatta una querela contro i gnoti per infedeltà patrimoniale dalla Juventus. Gnotus, gli gnoti, eravamo io, Vettega e Giraudon, c'era bisogno di cercare... La Juventus fece subito praticamente patteggiamento per questi infedeli, impiegati infedeli, che in 12 anni non avevano mai chiesto una lira, erano andati avanti con le proprie forze, no? Quindi erano proprio infedeli. E sapete com'è finita? Il gruppe ha rifiutato il patteggiamento della Juventus e ha detto che il fatto non sussiste. Quindi, voglio dire, gli avversari non erano solo fuori, erano anche dentro. Ma aiuta a capire, quante società fallirebbero, secondo lei, senza Prusvalenza? Il sistema del Prusvalenza è un debito che si protrae nel futuro, nel senso che tu fai una Prusvalenza, salvi il bilancio un anno, però ti ritrovi il debito l'anno prossimo. È tutta una scaletta che poi dopo arriva, come è arrivato per tanti, a 200-300 milioni. E quando parlano di Covid, è una barzelletta, perché il Covid può valere, il botteghino può valere 50 milioni. Voglio esagerare. Ma quando tu hai il bilancio negativo di 200-300 milioni, non è più il Covid. Come fanno gli agenti ad acquistare così tanto potere dentro i club, anche nei confronti dei direttori generali? Ci sono agenti potentissimi e sono due, Mendez e Raiola. E poi ci sono gli agenti che sono di aiuto a una società di calcio perché ne indicano giocatori. Il procuratore non fa del male a una società di calcio. La società di calcio si fa del male da sola, nel momento che non sa trattare. Io, per esempio, ho fatto le squadre forti con Raiola. Adesso sento dire che prende 25-30 milioni. Sapete io cosa gli ho dato a Raiola per avermi fatto prendere Pavel Ned, per avermi fatto prendere anche Emerson, che era della Roma. Però lui non era procuratore, ma l'ho mandato a litigare con la Roma. E anche Ibraimovici. Gli ho preso un giocatore, senza dargli dei soldi, praticamente un ragazzino, valutato un milione. Poi questo ragazzino, l'ho dato in comproprietà al Siena, ma dava 500 mila euro. Ecco, io in tutta l'attività di Raiola, lui ha preso un milione.